Musica E' veritiera la rappresentazione vulgata di una mafia catanese dal volto umano che fa affari usando i guanti gialli non nel tritolo come quella parermitana una rozza più propensa a frequentare i salotti della Catania Bene che a programmare stragi e delitti se lo chiede il magistrato Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto di Messina nel suo libro Catania Bene in cui, ripercorrendo la storia di un modello mafioso fondato sulla strategia dell'inabissamento e delle collusioni che è diventato dominante smonta il ritratto bonista e rassicurante che solitamente si ha della mafia etnea non meno adusa il crimine di quella corleonese e semmai anticipatrice della linea ambigua della trattativa sommersa delle oscure protezioni e perversi intrecci con settori deviati delle istituzioni una strategia di basso profilo, pronto però a colpire duramente e in maniera eclatante chi, come il giornalista Pippo Fava, sgarra e rompe il muro dell'omertà compiacente denunciando il patto scelerato con i palazzi del potere il libro è stato presentato giovedì 26 novembre nel salone di rappresentanza Mario Scelva del municipio di Calda Girone su iniziativa della Conf Commercio Calatina e dell'associazione anti-racket e anti-usura del calatino Francesco Borzi ai lavori, moderati dal giornalista Mariano Messineo sono intervenuti, oltre ad autori, i presidenti delle due associazioni Rosario Brune e Felice Trovato Dottor Ardita, Palermo-Catania Riina-Santa Paola una mafia o due mafie? Due modi diversi di intendere lo stesso fenomeno che è un fenomeno tradizionalista, ermetico, riservato capace di svolgere due funzioni che possono sembrare differenti ma in realtà esprimono la voglia di affermare potere un potere militare che arriva fino allo scontro con lo Stato come avviene per i corleonesi un potere economico e finanziario che ha tutto l'interesse a tenersi buono alle istituzioni come avviene a Catania nella realtà di Cosa Nostra Catanese L'omicidio di Fava a Catania rappresenta un punto di svolta o è semplicemente un nuovo percorso della mafia? No, è un punto di non ritorno perché Fava è l'uomo che denuncia il patto tra gli uomini della mafia e i poteri forti le istituzioni, la finanza, la politica dunque il potere che comanda Catania non può accettare che si dica che Fava è morto per le sue denunce ecco perché si cerca di mistificare e di far credere che la sua morte sia diversa, abbia un'origine diversa Quindi il primo omicidio, fra virgolette, politico che accade però nel territorio di Catania? Certamente il primo omicidio importante che apre sull'accento uno scenario diverso che fa comprendere che la mafia esiste, spara e si libera dei personaggi scomodi dei personaggi che si battono per la verità Lei parla di mafia 2.0 a che cosa si riferisce? Al fatto che dopo tanti anni di attività illecite e di guadagni illeciti se una parte di questi denari è stata spesa per i consumi degli affiliati un'altra parte evidentemente viene investita in qualche modo e occorre capire dove e come e se esiste un patrimonio che nasce dall'illecito questo patrimonio potrebbe essere impiegato in attività diverse e consentire a questa realtà di trasformarsi in un'entità più economica più finanziaria che piuttosto che criminale in senso schietto in senso esclusivo Dalla stagione delle stragi si è passato a un basso profilo è questo il futuro della mafia in Sicilia? Questo è il passato e anche il suo futuro il basso profilo è stato un modo di intendere e interpretare cosa nostra prima un modo come dire messo in piedi in maniera provata riprovata e poi consolidato in un modello che si è affermato e diventato prevalente prima poi dominante un modo che consente di non incorrere nelle reazioni dello Stato dunque il modo che oggi tutte le realtà criminali mafiose intendono attuare Nell'ambito delle realtà mafiose la mafia siciliana ha un potere meno vistoso rispetto all'andrangheta o altre forme mafiose che ci sono adesso nel territorio nazionale? Diciamo che l'andrangheta si è più di altre esportate al nord ha fatto quello che negli anni 80 fecero i catanesi a Torino e a Milano ma è chiaro che la visibilità di questi fenomeni oggi è legata anche alla capacità di espansione economica l'andrangheta ha fatto più investimenti anche in termini diciamo di attività di commercio di stupefacenti per esempio e ha avuto più emigrazioni al nord ma questo era già accaduto nella storia della comunità catanese sono modelli di comportamento che si riproducono che ritornano negli anni hanno tutte un comune denominatore il fatto di non essere visibili perché più visibili sono questi fenomeni più vengono contrastati In questo senso anche la latitanza diciamo ancora di papaveri rossi all'interno della mafia segna proprio questo passaggio La latitanza è uno degli aspetti che connotano una capacità criminale diciamo di interlocuzione con soggetti vari perché la latitanza costa comporta alleanze rapporti anche di un certo tipo probabilmente anche coperture istituzionali in qualche caso è un segnale alla latitanza Grazie! 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 Grazie!